Auguri a tutte! Oggi è l'8 marzo, la festa della donna, uno dei giorni più importanti del calendario. Il giorno in cui dobbiamo urlare al mondo quanto siete importanti per noi e quanto l'amore e la forza che ci date ci aiuta a vivere. Per festeggiarlo al meglio ho deciso di farvi un regalo. Non sono mimose, ma è un video. Un video in cui ho chiesto a degli esperti, delle persone che non si scordano mai niente, cosa sono le donne, ma soprattutto che mondo sarebbe senza di voi. Spero che il video vi piaccia e che vi entrerà nel cuore. A voi! Partiamo! Come ti chiami? Beatice! Gerardo! Carolina! Leonardo! Giorgia! Gregorio! Giordano! Cos'è una donna? Io! Sei una donna, sì! Sono molto belle e ho i capelli lunghi. Sono brave! Le donne sono delle guide per i propri figli. Bella questa! Questa me la segno, eh! La scrivo su un post-it. Alcune volte forti di carattere, alcune volte anche dolci. Chi è che ti sveglia la mattina? La mamma. La mamma. La mamma. La mamma. La mamma. Secondo te quali differenze ci sono tra un uomo e una donna? E hanno i capelli lunghi. E maschi corti. Le donne non hanno la barba. Qual è il tuo piatto preferito? Spaghetti. Chi te li cucina? La mamma. Secondo te chi cucina meglio? O a mia donna? Donne. Perché? Le donne. La mamma. Il mio papà non ha mai cucinato, perché non so la differenza. Quindi diciamo che vince la mamma a priori. Sì. La tua nonna? La mia nonna è la polenta. E la mamma alcune volte il pesce. Buono. Ascolta. Chi guida meglio, gli uomini o le donne? Gli uomini. Le donne sanno guidare? No. No, no, le donne non lo sanno guidare. Uomini. Perché fanno il gommate. Perché fanno? Il gommate. Perché l'auto degli uomini è più alta di quella delle femmini. Eh, le auto delle donne sono più basse. Perché c'è anche un proverbio che dice Donna al volante è pericolo così. È vero, è vero. Ho sentito anche questo proverbio. Le donne perché sono più tranquille, invece il tuo papà a volte fa le sgommate. Questa è la segna, questa è scardina ogni luogo comune. Qual è la persona più importante della tua vita? La mamma e la nonna. Mia mamma. La mia sorella. La mamma è la persona più importante della mia vita. Secondo te perché ogni tanto le donne si arrabbiano con gli uomini? Perché rischiano. Ma perché mi danno i bocci. Perché facciamo un po' di dispetti. Che ragioni più spesso? Le donne. Un po' tutte e due. Le femmine. Come va trattata la mamma? E con essi. Le donne vanno rispettate. Con gentilezza. Se un uomo tratta male a una donna, se cosa te? Se è accattivo. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Le donne devono sorridere come le principessi. Sì. Sì? Cosa sanno le donne? Ehm... 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 Arancio. Arancio. Di fragola e... Di martello. Che mondo sarebbe senza le donne? Non ci viverei. Un mondo in cui i maschi devono fare sempre tutto. E secondo te lo farebbero bene o no? Così, così. Allora, sai cosa sono queste? Ehm... Fiori. Più precisamente, mimose. Sai cosa accade l'8 marzo? No. Ehm... La festa a tutte le donne. Brava! È una data in cui tutti, ricordiamo alle donne, quanto siano importanti nel mondo. Allora, fai gli auguri a tutte le donne del mondo. Auguri a me e a tutte le donne del mondo. Auguri a tutte le donne del mondo. Auguri. Auguri. Auguri a tutte le donne. Tu ti senti donna? Sì. Auguri a Nicola. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.